è diventata una star sui social network a 89 anni con migliaia di followers e i suoi scatti sono divertenti e originali si tratta quasi sempre di selfie kimiko nishimoto ha scoperto la passione per la fotografia a 72 anni e da allora non si è più fermata si diverte a immortalarsi nelle situazioni più strane si prende gioco di sé si maschera con i costumi dei nipoti vola a cavallo di una scopa come harry potter o si finge vittima di un incidente stradale non si cura del pericolo vuole solo divertirsi è un abile instagram una supernonna di instagram non c'è un'età per fare fotografie puoi scattare ovunque dice a casa fuori nel tuo letto è questo il bello non avrei mai immaginato di diventare così popolare grazie ai miei scatti le foto all'inizio sono state esposte in una mostra a kumamoto sua città natale ma la decisione di pubblicarle online l'ha resa una star quando è stata ospite di una galleria di tokyo dicembre scorso la gente si è messa in fila per ammirare i suoi scatti originali la cosa che stupisce di kimiko è il suo senso dell'umorismo e la sua capacità di adattarsi con intelligenza e flessibilità ai social media uno strumento che per una come lei nata nel 28 dovrebbe essere quanto di più macchinoso e sconosciuto ma lei è perfettamente a suo agio e felice voglio continuare a fotografare assicura anche quando sarò condannata in un letto avrò sempre la mia macchina fotografica in mano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti